Buongiorno e grazie per l'invito a Uwe Schroeder e a tutti gli altri che mi hanno voluto qui. Cosa si può dire oggi del rapporto tra il progetto e il luogo? Questa immagine del grande fotografo italiano Luigi Ghirri illustra l'Italia in miniatura di Rimini. I monumenti e i luoghi italiani sono rappresentati in un modo differente in cui le misure sono cambiate. La mutazione delle cose obliga a cercare una nuova misura del progetto. Ora consentitemi un nuovo salto temporale, uno spostamento. Per mostrarvi attraverso due semplici esempi che in realtà i monumenti continuano a parlare con il luogo. Siamo nella pianura padana, la grande pianura del nord Italia. Questa città è Sabioneta, fondata nel 1560 da Vespasiano Gonzaga. Questa città è Sabioneta, fondata nel 1560 da Vespasiano Gonzaga. Su un lato della piazza d'armi Vespasiano costruisce la Galleria degli Antichi. Si tratta di un edificio straordinario che è disposto su due livelli, a terra e al primo piano. Il percorso a terra collega la città con i campi e le misure dei campi che hanno preceduto la fondazione della città. Il percorso a terra è un percorso a terra. Il percorso a terra. Al primo piano invece il percorso conduce lungo una galleria. Questa galleria si conclude con una finestra. Dagegen führt im ersten obergeschoss der Weg durch die Gallerie und führt direkt auf das Fenster. È quindi un museo, un percorso nel tempo. Infatti non ha fine. Vediamo ora questa immagine della città di Parma e del grande palazzo della Pilotta. È un grande edificio fuori scala. È un grande edificio fuori scala. Il teatro non viene costruito nuovo, ma viene costruito al primo piano di questo palazzo. Per costruire questo teatro i Farnese chiamano Giovan Battista Aleotti. Non è un architetto, non è soltanto un architetto, ma un ingegnere che si occupa della regolazione delle acque, dei fiumi. E quindi costruisce un teatro che in occasione degli spettacoli si riempie d'acqua. L'acqua è la stessa acqua dei fiumi e dei torrenti della pianura padana. Ma ciò che avviene nel teatro ci trasporta in un tempo diverso. Quindi, a terra la realtà, al piano rialzato la finzione. E quindi può dire che nel terzo luogo è la realtà, nel primo luogo è la fiction. Questa doppia natura consente ai monumenti padani di rimanere ancorati al luogo. E di riprodursi ogni volta in modo diverso attraverso il tempo. Si può dire che esiste una struttura esteriore e una struttura interiore dei monumenti. Ecco, mi sposto ancora di qualche anno. Quando avevo 18 anni ho incontrato quest'uomo nella piazza del Duomo di Parma. Era Giorgio Luis Borges. Che Cieco andava a vedere le sculture sul Battistero di Parma. Che cosa vedeva Borges con i suoi occhi chiusi? Come sapete, Borges distrugge la nozione di luogo nella letteratura. Lo straordinario conoscitore di Dante, di Virgilio, si dimentica per un momento di Dante e di Virgilio. Dissrugendo i rapporti consolidati che definiscono un luogo, Borges definisce un nuovo luogo. Indem er die üblichen Grundlagen des Ortes zerstört, baut Borges gleichzeitig un nuovo luogo auf. Possiamo quindi dire che il luogo si riproduce continuamente e si modifica, ma non si estingue. Man könnte also sagen, dass der Ort sich immer wieder neu vorschlägt und verändert, aber nie ganz verschwindet. Borges legge nelle sculture del Battistero di Parma ciò che è stato e ciò che sarà. Borges liest in den Inschriften der Sculturen des Battistero das, was war und das, was sein wird. Per vedere questo non sono necessari solo gli occhi, ma è necessaria la mente, è necessaria l'anima. Ora consentitemi un nuovo salto temporale, un nuovo spostamento geografico. Cerco di farvi qualche esempio per definire il concetto di luogo. Erlaubte es mir einige Beispiele zu zeigen, die das Konzept des Ortes illustrieren können. E utilizzerò quattro temi. Und ich werde vier Themen benutzen. Tempo, Zeit, Terra, Erde, Grund, Luce, Licht, Silenzio, Stille. Questo che vedete è l'impianto originario romano del Castello di Novara. Das, was ihr seht, ist der ursprüngliche Fußabdruck Grundriss des Castello von Novara, des römischen Ursprungsis. Tutta la città si è sviluppata a partire da questo quadrato. Questo è il Castello di Novara nel momento in cui, quindici anni fa, mi sono occupato della sua ricostruzione. Il cantiere è stato in questi anni contemporaneamente un cantiere di progetto e un cantiere di scavo. Il progetto è stato continuamente modificato attraverso la conoscenza degli scavi e delle mura romane. Su questo asse abbiamo scoperto il primo dei quattro grandi lati del Castello. Ecco, questo asse è quello che io vi sto indicando. Su questa spina, come per un corpo, è avvenuta la ricostruzione. E' stata ricostruita completamente questa ala del Castello, la torre di cui abbiamo ritrovato la base e l'ala sud. Qui vedete la stessa cosa ingrandita, la ricostruzione dell'ala ovest, la torre, l'ala sud e l'altra torre. Ecco la spina, la grande spina del Castrum Romano. Hier seht ihr nochmal das Rückgrat des Castrum Romanum, das das Gebäude durchquert. Durante gli scavi sono stati ritrovati molti corpi di bambini e di soldati. Während der Ausgrabung wurden diversi corpi gefunden, von soldaten und von Kindern. Dunque generazioni diverse avevano contribuito alla trasformazione di questo Castello e di questo luogo. Questa spina era dunque la spina dorsale del corpo della città. E attorno ad essa è avvenuto il nostro lavoro. Qui vedete i diversi livelli. E qui vedete una parte della ricostruzione che ancora non è terminata, dove si nota la torre centrale e il completamento di una delle due torri laterali. C'è una naturale continuità fra quello che sta sotto e quello che sta sopra. Qui vedete la torre. La torre non esisteva più, era coperta dai tetti. Abbiamo costruito la nuova torre sulla sua preesistenza. Ma la torre che abbiamo costruito non ha una fine. È quasi provisoria, temporanea. Ma il rapporto tra le due torri. Il rapporto tra le due torri. L'attacco della torre. La torre ha una terminazione, ho detto, provisoria, temporanea. Una grande stanza aperta, fredda, che consente di vedere la cupola antonelliana. Come dicevo, la torre ha un provisorico. Un luogo offente, un luogo offente, un luogo libero, che consente di vedere la cupola di Antonelli. Così le misure del castello ritornano ad essere le misure della città. In questa forma, sono le maestabilità del castello wieder le maestabilità della città. Terra. Erde. Questa immagine vi mostra San Francesco dipinto da Giotto. Questo immagine vi mostra San Francesco dipinto da Giotto. Francesco, il più grande santo della cristianità occidentale, viene invitato dal crocifisso a occuparsi di ricostruire tre chiese. La sua introduzione alla spiritualità nasce dalla materialità. Siamo a Perugia. Questa è una zona dove ho costruito una chiesa. è un'area molto difficile, con due quote diverse, una bassa e una alta. è un'area molto difficile, con un grande Unterschiede, con un grande Unterschiede con il sud e il nord. tutto intorno c'è un quartiere di speculazione edilizia. la scelta è stata quella di costruire attraverso quote diverse, livelli diversi di altezza. La scelta è stata quella di costruire attraverso questo progetto da Giotto. Questo perché la città di Perugia è fatta di altezze diverse. perché la città di Perugia è fatta di diversi livelli diversi. La città è allora un percorso nella terra e un percorso esterno a collegare due quote diverse, due livelli diversi. Un taglio improvviso consente di entrare in un corpo solido e duro. Questo percorso all'interno ci porta all'altare e poi alla cripta. L'altro percorso all'esterno ci porta dalla piazza bassa alla piazza alta. ma la chiesa è anche una sostruzione. Una architettura che sta sotto altre architekture. Tutta la città di Perugia è costruita su architekture che stanno sotto altre architekture. Ora la nuova chiesa è una sostruzione delle cose costruite nel Novecento. Le sue misure danno un senso alle cose che non lo hanno. La città si appoggia sulla nuova chiesa. Il percorso interno invece attraverso la luce ci porta dentro alla terra. Il percorso verso l'esterno ci riporta al paesaggio. Il percorso verso l'unico frammento di paesaggio dell'Umbria che lì è rimasto. Il percorso verso l'unico frammento di paesaggio dell'Umbria. Questa che introduce il tema luce è la via Emilia. Una grande strada che attraversa tutta l'Italia del nord. La città di Parma. Ecco la via Emilia. Milano, Bologna. A duecento metri dalla via Emilia, la sua sinistra, ho costruito un tempio crematorio. Tutta la vita di questa regione si svolge su questa strada. Ecco il tempio. Ecco la via Emilia. Il tempio è un luogo di trasformazione del corpo. E allora ho pensato che dovesse essere un percorso. Un percorso esattamente parallelo a quello della grande strada. Un percorso esattamente parallelo a via Emilia. Infatti nel recinto si entra in questo modo e si arriva al tempio. Man tritt in die Einfriedung ein und erreicht den Tempel. Nel primo quadrato il corpo viene salutato. Im ersten quadrat wird der Leichnam begrüßt. Poi viene portato nel secondo quadrato che si chiama Camera della Luce. Dann wird er in das zweite quadrat gebracht, das Raum des Lichts heißt. Poi passa nel terzo quadrato in cui viene trasformato. Und dann geht er in das dritte quadrat über und dort wird der Körper transformiert. Poi esce e ritorna alla Terra. Und dann geht der Körper heraus und kehrt zur Erde zurück. Questo è il tempio visto dai campi. Das ist das Crematorium von den Feldern ausgesehen. La sua posizione è esattamente su un'asse della centuriazione romana. Seine Ausrichtung liegt genau auf einer Achse des römischen Vermessungssystems. Exattamente parallelo alla grande strada. Exatt parallel zur großen Straße der Via Emilia. Così il percorso del corpo è lo stesso percorso della strada che esiste da secoli. In questo quadrato è un grande lucernario illumina il corpo. Im ersten quadrat wird der Körper durch ein großes Oberlicht beleuchtet. Ma una luce diversa arriva da una alta porta. Aber un anderes Licht kommt aus einer hohen Tür. Il corpo viene portato attraverso quella alta porta. Si compare nella luce. Der Körper wird durch diese hohe Tür mit ihrem Licht transportiert. Questa luce è diversa dalla luce del giorno. Questo luce è diversa dalla luce del giorno. Poi il corpo ritorna all'esterno e la cenere viene sciolta nella terra. Così il corpo ritorna al paesaggio. Nella stessa direzione della grande strada. Per chiudere, velocissimo. Um abzuschliessen, ganz schnell. Vi mostro questa immagine della strada francigena. è la grande strada che per sette secoli ha collegato l'Europa del Nord a Roma, al Mediterraneo, all'Oriente. Santi, soldati, imperatori, pellegrini sono passati da qui. Heilige soldati, herrscher, pilgeri hanno questa strada genommen. Ecco, questo è uno dei grandi passaggi di risalita verso l'Appennino. Il Monte Appennino. Questo è uno dei passaggi di risalita verso l'Appennino. Qui vedete un castello dell'imperatore Ottone III. Qui vedete un castello dell'imperatore Ottone III. Qui, a fianco di questo itinerario, a fianco del cammino di pellegrinaggio, ho costruito una piccola cappella. Hier, neben diesem Pilgerweg, habe ich una piccola cappella. È costituita da tre elementi, un punto e due linee. Il primo è un grande muro lungo nove metri e alto sei metri. Il punto è una croce di ferro. Il punto è un kreuz aus Eisen. Poi c'è una piccola seduta. Esiste una sequenza sempre più fragile. Il monte, il muro, la croce. La cosa più fragile regge le cose più pesante. Questa è l'immagine che vedono i pellegrini di oggi. I materiali sono i materiali che derivano da questo luogo. L'argilla, cotta e impastata, diventa mattone. Le materiali che vengono da questo luogo. Le ziegelsteine sono fuori dalla terra. Le sorgenti di ferro del ruscello, che corre qui a fianco, diventano la croce. C'è un'assoluta continuità. Ogni mattino il sole si alza in modo diverso nelle diverse stagioni. e illumina la croce. Un'assoluto di un'assoluto di qualche ora si sposta. Poi si deposita a terra. Grazie. 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 Grazie.